Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle, buongiorno, iscriviti al nostro canale se no le botte Vai subito, subito, allora poi vado subito a cercare Sono in compagnia di Michele Bravi, Michele tu hai un percorso un po' particolare perché non sei nato come youtuber ma sei nato come cantante che però poi è sbarcato su youtube Raccontami velocissimamente questo passaggio, come mai? Eh, perché a me le cose semplici fanno schifo, capito? Io decido di partire dalla televisione e poi torno sul web No, insomma io avevo bisogno di trovare una piattaforma per parlare, youtube è proprio la piattaforma più democratica Io dico sempre che la tv è un monologo, invece youtube è un dialogo, io posso parlare con le persone, posso confrontarmi, posso dialogare Io ho bisogno sempre di confrontarmi tanto, soprattutto quando poi parli di processo creativo e quant'altro Quindi ho trovato un po' il mio porto sicuro, mi sento libero nel bene o nel male, ho imparato a prendermi molto meno sul serio A concentrarmi sulle cose importanti, insomma a lasciare andare tutti quelli che sono i difetti Ed è per questo che poi ho deciso di andare davanti a tutta l'Italia a raccontare le mie scelte orribili Le tue scelte? Si può dire stronzate Si, si può dire stronzate, tanto siamo sul mio canale Il diario delle stronzate mi sembrava un po' troppo come titolo per una canzone da presentare E allora l'abbiamo il corato, ho optato per il diario degli errori Tra l'altro volevo sapere anche perché gestire un canale youtube ne so qualcosa è un delirio assurdo Cioè comunque ci devi stare tanto dietro La mia domanda è come fai a coniugare queste due cose? Ma io sono in realtà uno youtuber finto, nel senso che di solito c'è la programmazione, le cose Invece su quello sono molto distratte Sei molto di stomaco insomma Ma sì, in una settimana può succedere che carico sette video, posto un mese senza fare niente Dipende da quello che succede Tengo molto aggiornati i miei social, quello sì, ma perché ovviamente la quotidianità bene o male la racconti Però i video devi avere un contenuto diverso, no? Magari tu stai un anno in studio, non è che puoi raccontare Oggi scrivo, oggi scrivo, oggi scrivo, oggi scrivo E tu balle, certo E la gente poi diceva basta Abbiamo capito che scrivi le canzoni, ok? No, quindi dipende Su quello sono molto distratto, ma proprio perché ripeto Poi ci sono dei youtuber che fanno dei contenuti fighissimi, no? E io in quel senso sono proprio un cane maledetto Mi faccio i video tutti mossi, sfogati con l'iPhone Però le persone piacciono Ma sì, ma ripeto, sono un cane maledetto della tecnologia L'ultima domanda Quanto di quello che hai imparato nel web hai portato nel tuo nuovo disco? Tutto in realtà Perché per me il web ha rappresentato, come ti dicevo, no? La scoperta, no? Di una libertà, di una tranquillità Sai che comunque il mercato discografico ha una rottura incredibile Sarà anche crutele, tipo E la radio, e le vendite E poi tu smetti di stare tranquillo E dico, cavolo, io devo star bene mentre canto Invece col web mi sono iniziato a dire Ma cavolo, io ho bisogno di cantare perché mi serve quella cosa Perché io sto bene quando canto, no? Allora riscopri appunto tutto quel senso di libertà Un pochino anche se vuoi di spavalderia, no? Senza che diventi arroganza Però un pochino più di spavalderia Insomma, alla fine ho vent'anni Magari ti ha aiutato ventitré Ventidue Me ne stai già da di più, va bene Comunque, grazie mille Michele Bravi Grazie a te Per la tua disponibilità E in bocca al lupo Crepi, ciao Ciao